Bella a tutti ragazzi, qua Argasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder delle nazionali sono contento che il primo video, quello del Senegal, vi è piaciuto oggi vi porto una squadra della Costa d'Avorio che mi è stata richiesta tantissimo e nel prossimo episodio vi porterò il Cile che anche esso è stato richiesto tantissimo voi comunque continuate a lasciare like, continuate a consigliarmi i giocatori e continuate a dirmi che squadre volete nei prossimi episodi per farle magari anche più, diciamo, a me piacciono un po' le squadre tropicali, belle esotiche comunque fatemi sapere nei commenti cosa preferite quindi direi di cominciare subito, Costa d'Avorio, squadra fortissima budget neanche troppo alto, squadra siccome è competitivissima ho usato ancora il 4-3-3 tra parentesi, quello con i 2 cdc e il cc centrale quindi direi di partire subito con il portiere, intanto in posto qui è argento il portiere ed è Sorrentino, classico portiere ivoriano che fa intesa con uno dei due difensori centrali per cui ho messo lui perché volendo c'era come portiere ivoriano quello lì, tipo che è uscito anche man of the match però non mi faceva sinceramente impazzire, non volevo spendere tutti quei crediti per un portiere che poi magari faceva anche schifo comunque Sorrentino a me è piaciuto, molto forte, ottime statistiche peccato che non è velocissimo però è davvero un buon portiere poi andiamo subito a impostare qui un campionato nazionalità cdc Costa d'Avorio e dovremmo trovarla eccola qui, Costa d'Avorio il td è orie, ma potete usare anche bue come avete visto ce l'ho orie è veramente forte, ovviamente per fare la squadra più competitiva possibile dove potete anche comprare i vari if perché ce ne sono usciti diversi o man of the match, quello che volete orie è molto forte, veloce, buon passaggio, discreto tiro ottimo in difesa, ottimo fisico davvero un ottimo terzino destro che è anche alto alto quindi attacca e difende con grande facilità poi difensore centrale di destra ho utilizzato Colo Touré c'è la sua versione if quindi se volete qualcosa di più forte appunto c'è la versione if però devo dire che la difesa mi è piaciuta davvero tanto perché ho subito tipo 1-2 gol al massimo in 5 partite che ho giocato e quindi devo dire che è molto solida veloce quanto basta, forte di testa è difensivamente impenetrabile come del resto Bamba o Bamba il suo compagno di reparto c'è anche la sua versione del Litz del trasferimento mi è piaciuto tanto Bamba non ha tantissimo, ha solo 72 di difesa poteva avere qualcosa di più ovviamente però devo dire che mi è piaciuto tanto di testa pericolosissimo soprattutto sui corner costo relativamente basso quindi vi consiglio di provare anche Bamba poi terzino sinistro ho utilizzato Traoré c'è anche una sua versione non mi ricordo dove gioca e volendo c'è anche Bakayogo che è molto buono della Premier League comunque ho usato Traoré perché secondo me ha delle statistiche migliori velocissimo, discreto tiro per un bronzo pure il dribbling ottimo passaggio comunque il giocatore è completissimo è forte in difesa in fisico Mancino che gioca a sinistra con un assist in 5 partite pagato 2500 crediti devo dire che mi ha soddisfatto tantissimo come giocatore perché è veramente forte poi andiamo a centrocampo troviamo come Cdc di destra Tiotè con la sua testa enorme c'è una fronte che ragazzi è altissima però in game è veramente forte perché riesce a recuperare un macello di palloni purtroppo non è un grande smistatore come potete vedere a 66 di passaggio non è il massimo della vita e anche il tiro dalla distanza non fa scintille solo un 56 però per il ruolo che deve fare cioè il recupero a palloni è perfetto come del resto è molto buono anche il suo compagno di reparto Serie D che mi è piaciuto è veloce più che altro riesce a dare una buona velocità alla manovra offensiva soprattutto nei contropiedi perché è una squadra che fa molti contropiedi è un giocatore abbastanza completo peccato che non ha un tiro decente altrimenti sarebbe stato ancora più forte comunque anche esso recupera tanti palloni in difesa sostanzialmente è il ruolo che fa Tiotè il giocatore più forte della squadra secondo me è il Cicci e non poteva mancare Iaiature ragazzi è un giocatore fenomenale che io penso che sia il miglior centrocampista del gioco perché è completo ed è fortissimo perché fa gol fa assist non perde il pallone recupera il pallone fisicamente è una montagna con 90 di fisico poi gli ho messo catalizzatore che aumenta velocità e passaggio quindi diventa ancora più forte un giocatore che per il mio stile di gioco è perfetto perché recupera tanti palloni e soprattutto riesce oltre a smistarli a fare anche tiri dalla distanza perfetti infatti mi ha fatto tipo 3 gol di long shot veramente bellissimi e quindi devo dire che Touré è un giocatore fenomenale costa 100.000 crediti ma li vale tutta la vita poi andiamo con l'attacco troviamo come ha la destra Bolli il giocatore più veloce del gioco ed è anche un ottimo ha un ottimo tiro devo dire utilizzandolo in questa squadra mi ha fatto un paio di gol anche uno molto bello di long shot devo dire che in contropiede è letale perché basti vedere la sua velocità anche un ottimo dribbling per essere un bronzo e anche un ottimo tiro quindi devo dire che mi è piaciuto davvero tanto Bolli poi come ha la sinistra ho utilizzato Gervinio che qui è infortunato però comunque si è forte anche esso nei contropiedi è devastante comunque segna con buona continuità e fa anche tanti assist anche se non ha un tiro e un passaggio molto alti peccato che non ha 4 stelle abilità l'avrebbero reso secondo me un'ala devastantissima e quindi si mi è piaciuto tanto anche lui ma ovviamente il giocatore più forte perché è buggato della squadra è senza dubbio Dumbia che ha utilizzato quello del CSK potete usare anche Drogba ma non so quanto vi conviene se avete un giocatore che prende palla e vi risolve le partite come Dumbia che fa più gol che partite giocate e comunque sia fa anche tanti assist vedendolo così è un giocatore fenomenale poi guardate anche più in basso 4 stelle abilità rendono questo giocatore diciamo il giocatore l'attaccante più forte del gioco perché riesce a fare gol in qualsiasi modo in qualsiasi caso in qualsiasi squadra in qualsiasi posizione e con qualsiasi formazione io penso quindi raga non c'è niente altro da dire provate questa squadra ragazzi merita davvero tanto non ho perso nessuna partita ho sempre giocato alla grande un ottimo calcio e quindi ve la straconsiglio fatemi sapere nei commenti se vi piace se la proverete se l'avete provata cosa ne pensate come sempre raga io vi invito a lasciare un bel like a 300 mi piace uscirà un nuovo video come ho detto prima fatemi sapere nei commenti quale altre squadre volete che quale altre nazionali volete che io vi porti nei prossimi video il prossimo video sarà del Cile quindi consigliatemi già qualche giocatore anche cileno iscrittevi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video adesso vi lascio le clip bella raga iscrittevi al mio canale ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti